Sì alla Due Mari, ma proprio perché sì, una parte di quel progetto la dobbiamo cambiare, per il bene del progetto e per gli interessi di questa città. Il ricorso al TAR sulla questione bretelle E78 si farà. È stato infatti approvato dal Consiglio Comunale di Arezzo l'atto di indirizzo di maggioranza sul progetto dell'ANAS relativo alle due bretelle di collegamento tra la Due Mari da una parte e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle e la Umbro-Casentinese dall'altra. È un mandato che si sostanzi in pochi punti, ma molto chiari. Primo, la città quest'opera la vuole. Noi siamo l'Italia del sì, che le grandi opere le vuole e le fa. Due, proprio perché le vogliamo vanno fatte bene. E allora c'è una contraddizione in termini. Noi non possiamo pensare di fare un'opera di questo valore, di questo calibro, affidandosi in buona parte o comunque in parte sostanziale o consistente ad aspetti progettuali che sono molto vecchi. E allora da qui la scelta di fare alcuni passaggi precisi. Il primo, ricorso al TAR. Non un ricorso generico come qualcuno voleva, tanto per andare a dire che l'aveva fatto, perché quello è fuffa, ma un ricorso specifico, finalizzato a stigmatizzare, a sottolineare che la mancata valutazione di impatto ambientale è un errore grossolano. Due, battaglie in conferenza dei servizi, punto su punto, pezzo su pezzo, stralcio su stralcio. Tre, laddove questa battaglia dovesse essere spedita al vittente, noi ricorriamo al TAR, punto su punto, pezzo su pezzo, stralcio su stralcio. Due, i consiglieri della maggioranza che non hanno votato per l'atto di indirizzo che poi ha dato il via libera per il ricorso al TAR, mentre alcune polemiche si erano accese per il documento di Scelguarezzo posticipato nell'ordine di votazione.